e poi facciamo un'atmosfera un po' più lucubre strano, lucubra, sempre robe lucubre comunque aspetta, aspetta, non stavo prendendo fate il capolino due mesi di lavoro per 30 secondi di video guarda se è bello in giro, ti fa un effetto rompi palle quando ti diciamo vai e te spingi tutto eh, esatto guardi fuori dalla scena sicurezza beh, ci sei ok l'ho lasciato se quando si apre dovete infilare rilasciano si 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 dai pesce va di là bravo il profumo che c'è là che cacchio è in macchina tua attimo di parico attimo di parico ahahah ahahah questo qui è mezzo vuoto si si ma come si apre ma aspetta con questo qui è Claudio nudo guarda 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 la cazzo 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 allora mettetevi abbastanza equidistanti dai ho is algebra i i i e e un po il a però sei a me? si scioglie se la guardiamo 2-3 allora due passi flenti vento in alto spavandi ho camminato un colombolico di fuori mondo è imbarazzato stai girando? Pensa! Non saprò mai di chi è invenito Eh no! L'uomo che non deve chiedere mai! Riffalla! Tant'è di fare Tu vuoi stare con lui? E tenete un po' il passo Soprattutto Tant'è di fare Soprattutto Soprattutto Eh sì! Puoi recitare? Posto Salutate Pensa! Pensa! Psic maladiveries Oluido Sonit ign